Siamo all'Otel Vesuvio di Sorrento alla 37esima edizione del congresso SNAMI. Abbiamo qui la dottoressa Manuela Carloni, molto lieta, molto piacere. Mi occupo di noleggio l'auto a lungo termine, sono la responsabile delle convenzioni. Abbiamo fatto una convenzione con lo SNAMI già da qualche anno e chiaramente la convenzione è dedicata a tutti i medici iscritti allo SNAMI e ha la particolarità di dare ai medici un servizio nuovo che è noleggio l'auto a lungo termine con delle offerte particolari, con delle condizioni piuttosto vantaggiose. Siamo sul sito dello SNAMI e siamo presenti con il nostro sito dove i medici possono andare a visitare il nostro sito e con un codice di accesso possono visualizzare tutte le offerte dedicate in base alla convenzione che li riguarda, in questo caso la convenzione SNAMI. Chi non è medico può soffrire ovviamente del noleggio a lungo termine. Abbiamo tante altre convenzioni che non sono principalmente medici ma sono libri professionisti come appunto avvocati, abbiamo farmacisti, abbiamo diciamo altre tipologie di professionisti. Quindi diciamo che siamo aperti ovviamente a tanti altri tipi di attività insomma che è la libera professione, quindi cerchiamo di dare un servizio. Il nostro sito si chiama principalmente In Più Renting, l'abbiamo chiamato apposta così per dare un qualcosa in più e quindi diversificarsi un po' da quello che è la realtà di questa società di noleggio e poi nello specifico Med Renting perché abbiamo pensato che così potesse ricordare meglio ai medici che c'è un servizio dedicato che è Med, dalla parola appunto medico.